Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci ad essere discepoli del Signore Gesù così come ci ha indicato, con la parola e con l'esempio, Giovanni il Battista. Il discepolo non è la luce, ma colui che porta la luce, ovvero Gesù. Il discepolo non è un seduttore, ma colui che porta l'unico Salvatore. È la figura di Giovanni Battista, quella che il Vescovo di Acesano delinea durante la celebrazione presieduta nell'area di Colmata a Chiaveri, nell'incontro annuale con le famiglie che qui hanno allestito il Luna Park. Una tradizione, ma soprattutto un incontro che si rinnova tra le decine di persone che per un breve periodo dell'anno vivono e lavorano sul territorio del Tiguglio, a concelebrare con il Vescovo il nuovo responsabile diocesano della pastorale dei Migrantes, Don Stefano Bruzzone, che è subentrato a Don Enzo Frisino. L'invito arrivato da Monsignor De Vasini è stato quello di essere testimonianza di fede sull'esempio del Battista, colui che indica la via. La via è la parola, perché è la parola che indica la via. E allora raddrizzare le vie del Signore che cosa vuol dire? Vuol dire liberare la parola del Signore da tutte quelle letture, interpretazioni, comprensioni ideologiche che o la anacquano rendendola insignificante o la appesantiscono rendendola impraticabile. Sicuramente è un momento di aggregazione e poi anche il Vescovo che ci onora dalla sua presenza. Poi da quando lui è arrivato da pochi anni c'era prima l'altro Vescovo, però anche lui ho visto che ci tiene alla nostra categoria, alle nostre famiglie. Tante famiglie e tanti bambini che vivono e anche qui lavorano, trovano scuola, vengono accolti. Sì, vanno a scuola, poi abbiamo avuto anche dei battesimi, anche io nella mia famiglia, abbiamo avuto delle cresime, comunioni con le suore qua vicino a noi, quindi c'è abbastanza un'aggregazione tra noi e la città. In questi giorni, se il tempo ce lo permette, dovrebbe esserci una partecipazione abbastanza sufficiente per essere contenti di stare qui in Riviera. Come operatori siamo 42 mi pare, giusto? Ognuno ha la sua attrazione perché ogni attrazione è una famiglia, non è che c'è un titolare solo per tutto Luna Park, come in tutte le altre città.